Oggi 14 novembre 2019, il Fotoclub compie 50 anni. Credo che sia una tappa molto importante, specialmente per un sodalizio amatoriale come il nostro, fatta di gente che si diverte a fare fotografia, si diverte anche a restaurarla, a tirare fuori le vecchie fotografie dell'archivio. Per cui stasera sarà una serata, spero, molto 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 piacevole a onorare questo evento. Io approfitto dell'occasione per fare tanti, tanti auguri al nostro carissimo amico e socio fondatore Bruno Tavanti, che purtroppo giace in un fondacciuolo di letto, essendo seduto un femore proprio alla vigilia di questo evento. Grazie a tutti. 50 anni di storia per il Fotoclub La Chimera, celebrati con una cena a cui hanno partecipato sia i soci storici che quelli più recenti. Un Fotoclub che indubbiamente per la città rappresenta un'istituzione, per il suo preziosissimo archivio migliaia e migliaia di foto che ritraggono Arezzo e gli Arettini nel tempo, oggi grazie alla collaborazione di Confartigianato Consultabile Online. E per la fine dell'anno è annunciata anche una collettiva, che dunque chiuderà questo anno così importante per il Fotoclub Aretino. Grazie a tutti.